I rosso-blu, matematicamente salvi, volevano celebrare in bellezza in uno stadio completamente sold out davanti ai, loro, tifosi, e nel migliore dei modi, la salvezza e l'addio del, loro, mister Claudio Ranieri. Dall'altra parte i toscani, in attesa della finale di Conference, volevano blindare definitivamente l'ottavo posto. Per la formazione di Vincenzo Italiano questa è solo la prima di tre partite decisive, mercoledì 29 maggio la finale di Conference League ad Atene contro l'Olympiakos, il 2 giugno il recupero della 29esima giornata di Serie A a Bergamo contro l'Atalanta. Il primo tempo inizia con una standing ovation per Ranieri, tutto lo stadio in piedi per applaudirlo, tifosi, giocatori, le panchine. Il mister si commuove, una testimonianza d'affetto davvero emozionante. La viola parte in pressing con il baricentro alto. Al tredicesimo minuto i giocatori si fermano in campo. Un lungo applauso in ricordo di Davide Astori, che indossò le maglie di entrambe le formazioni. Il gioco riprende ma il match stenta a decollare. Al ventesimo minuto Belotti al centro dell'area tira di testa, miracolo di scuffe, che devia il pallone. Al ventisettesimo minuto ci prova di testa anche De Iola su un calcio d'angolo battuto da sinistra ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Al ventinovesimo minuto altra occasione del Cagliari su calcio d'angolo. Con De Iola che devia non intenzionalmente il pallone verso lo specchio della porta. Grande istinto di Terracciano che riesce a evitare che il pallone oltrepassasse la riga di porta. Occasione anche per l'Uvumbo che calcia di prima intenzione. Ma Terracciano mette il pallone sopra la traversa. Allo scadere della mezz'ora è il Cagliari ad alzare il baricentro e cercare azioni mirate al gol. Ma è la Fiorentina a portarsi avanti al trentanovesimo minuto con la rete di Bonaventura. Che riceve palla al limite. Entra in area e si sposta il pallone sul mancino. Col quale fa partire un bel tiro a giro sul secondo palo. Palla che si insacca in rete. Niente da fare per scuffe. Due minuti di recupero. A 45 minuti più tre. La padula segna il gol del pari. Si alza la bandierina. VAR conferma il fuorigioco. Una frazione con diverse occasioni da gol da parte di entrambe le parti. Si rientra negli spogliatoi con il vantaggio della viola. Il secondo tempo vede il Cagliari iniziare un pressing fortissimo. Di nuovo occasione al cinquantottesimo minuto con De Iola. Colpo di testa ma la palla sfiora il palo lontano. La Fiorentina appare in difficoltà di fronte al pressing alto e asfissiante degli uomini di Ranieri. Tutto il Cagliari nella metà campo avversaria alla ricerca della rete del pareggio. Alla fine, dopo tante occasioni, De Iola sempre di testa trova la via del gol e del pareggio al 64esimo minuto. Inizialmente considerato in fuorigioco, dopo controllo il VAR convalida. All'85 minuti arriva il sorpasso dei padroni di casa con il gol di Mutando all'85 minuti. Ma la Fiorentina non ci sta e ritrova il pareggio grazie a Nico Gonzalez all'89 minuti. Gol annullato alla Padula per fuorigioco al novantesimo minuto. Cinque minuti di recupero per un finale al Fulmicotone. Un minuto arriva il rigore per la Fiorentina. E Arthur dal dischetto non sbaglia. Spiazza il portiere e segna la rete che regala alla squadra di italiano la vittoria. Finisce Cagliari-Fiorentina 2-3 con la Viola che si assicura la qualificazione matematica alle Coppe europee anche per il prossimo anno. Consolidato l'ottavo posto con 57 punti a più 4 dal Torino.